SOS Arezzo TV Sai dove siamo stasera? Perché se lo diciamo tutti diranno Che? Dove? Oh, anch'io non lo sapevo Scalinata Camillo Berneri Scalinata, sentite bene Scalinata Camillo Berneri Che ci aveva da fare poca eronia Perché era un filosofo scrittore Che fu ucciso nel 1937 Dai comunisti stalinisti Ah, quindi quelli che erano Nascosti in Aventino Un pochetto, ci dispiace ovviamente Quindi gli è stata dedicata Non lo sapevo E sarà stata dedicata, immagino quindi Dall'amministrazione di centrodestra Non adesso ovviamente Quelle Luccherini, presumo Ah, loro sinceramente sono andato lì apposta a vedere Perché non me lo ricordavo Anzi non l'avevo mai visto Quindi non sapevo che si chiamasse così Comunque sappiate che avete una scalinata ad Arezzo Che si chiama così Noi eravamo già stati qui in estate Mi sembra O prima dell'estate Non mi ricordo Con Franco Chiericone veniva Lui non apparì però Quindi eravamo dietro le telecamere Perché qui che cosa succede? Cioè sì Che probabilmente Soprattutto il sabato sera Le macchine Vengono qui a parcheggiare Perché siamo in piazza del popolo Quindi siamo in centro Qui c'è Le poste centrali E si va rapidamente nel corso In piazza Guido Monaco Quindi a forza però di parcheggiare Guarda Già era precaria la situazione di questa estate Guarda adesso com'è ridotta È veramente una cosa vergognosa È stato fatto un restile in questa piazza completo C'era rimasto soltanto questa parte di qua Che era fatiscente Con il muro che stava crollando Ricordi è rimasto tantissimi anni chiusa È stata rimessa a posto C'è rimasto questa indecenza qui E quella un po' più qua La più qua I nostri bagni Andiamo a vedere i bagni Comunque qui veramente Cioè bisogna metterci mano velocemente Attento che cadi Con tutti questi sassi che c'è in terra Non lo spaventare Allora Comunque era anche una vecchia canzone Attento che cadi Francesco Salvi Sei sicuro? Non era Francesco Salvi? Attento che cadi Non c'è sta canzone Ma c'è c'è L'hai inventata C'è C'è guarda Te la vorrei far sentire Soltante metano minghi E poco più Comunque qui Brava Il maestro Allora Guarda Guarda Da qui si viene ancora meglio Lo schifo No poi Non ci facciamo manca niente Perché le scritte sui muri Sì Molto bello Insomma È un bel anfragno Poi è uno dei pochi bei palazzi Fatti durante il ventennio E quindi sarebbe giusto anche tenerelo come si deve Guarda È la sedia delle poste centrali Esatto Costruita nel ventennio È abbastanza bella Qui sotto c'è il parcheggio Sì Qui sopra vediamo invece I soliti ricordi Qui sopra c'è il parcheggio Che ci può andare soltanto con la 500 O poco più però Perché Sennò altrimenti non giri Da quanto è stretto Va bene? Persone umili Con una macchinina piccolina Giardino tenuto Piante Tenuto bene Sì Sì Vedo bottiglie Nei cespugli Ti pareva Le sininche Non ci ho guardato Aiaiaiai Ti piace questa opere d'arte? Viola Ma come ha sommato un sacco di vernice Quindi spende anche Il bagno ovviamente chiusi Il bagno è fuori Il bagno è diventato fuori Fuori Queste transzende poi molto utili Bravo infatti Poi quando è occupato Chiudo la transzende Dica che è occupato Che non può entrare Mi sembra giusto Quando escono La rilasciano aperta Quindi facciamo un bel servizio Ma che l'amministrazione Non faccia niente per queste cose È veramente ridicolo Io non capisco questa città Che non si possa creare Con tutto il lavoro che c'è Necessità Con tutti gli estromunitari Che possono essere impiegati Nei lavori pubblici e sociali Che non ci sia Il comune sai che ha iniziato a usare Ogni anno i lavoratori Che sono in cassa integrazione Per opere socialmente utili Le possono fare tutte Questo non è però Un servizio da fare Però Santa miseria Diciamo che Non ci sia la possibilità Di poterli aperti Veramente mi sembra Oltre che aperti Tenerli anche se sono chiusi Però Non creare questa cosa Che certo non invoce Cioè chi passa da qui Non è bello Non distruggere così tutto Esatto Perché insomma È una piazza C'è un parcheggio C'è la scuola C'è Siamo Qui c'è le poste Siamo un passo Cioè siamo in centro Siamo un passo poi Dalle grandi vie Del passeggio È una piazza questa Che ha sempre un po' sofferto Questa problematica Sì Una volta fatto Il parcheggio sotterraneo Doveva finire È stato ristrutturato Completamente La cesta misericordia La scuola è stata ristrutturata Qua di ieri È stato ristrutturato Le loggie del grano Sono state ristrutturate Quindi Adesso questo punto qui È più giustificabile Che si possa tenere Quindi là Abbiamo visto Tutto distrutto per terra Qui Non ho capito io La nostra amministrazione comunale Che ci sta a fare Mi piace Così cattivo No cattivo Che ci sta a fare Perché effettivamente È una cosa Indicibile Questo Allora diranno Ma la vecchia amministrazione Ma la vecchia amministrazione Ci si rende la bocca Della vecchia amministrazione Non diciamo Noi risolviamo Vogliamo risolvere Lo faremo No La colpa Della vecchia amministrazione Che non l'ha fatto Non l'abbiamo trovato così E che vuol dire Fallo no Se guardate i rancoglioni Sei coglione anche te Aspettavamo Perché ogni settimana Devi arrivare L'hai già detta Seconda volta Che hai detto La tua parola preferita Va bene È importante Non si chiamiamo nome A questa trasmissione Ci vediamo domani Ciao